Allora, io accetto ogni critica, però prima di tutto bisogna studiare, e lo dico ai giovani ricercatori, meno, come dire, arroganza e essere meno saccenti. Posso rispondere? Capire, capire, capire intanto quello che ha fatto il legislatore, capire quello che ha fatto il governo, dopodiché valutiamo i risultati. La lotta all'assenteismo non è dentro la mia riforma, nel senso che è di leggi precedenti e susseguenti alla riforma. La condizione è necessaria, ma non sufficiente. Certo, benissimo. Allora, una breve risposta a Ferragina, così poi vorrei dare la parola a Nicola Borna. Prima di tutto, io avevo concentrato il mio intervento sulla produttività, le avevo dato il merito di aver portato questa idea degli incentivi. Il mio punto si basava sul fatto che gli incentivi, secondo me, devono essere collettivi piuttosto che individuali. Ci sono varie scuole di pensieri su questo. Ma infatti, io infatti le sto dicendo quello che penso. Io ho scelto la strada delle fasce e della premierità. Per quanto riguarda il salario accessorio, altre scuole di pensiero la pensano diversamente. Io ho fatto la riforma, la riforma è in corso di applicazione, per carità. Non è che uno appartiene a una scuola di pensiero e un'altra dice che la riforma è un variato. No, no, no. Posso? Posso? Ok, prego. Poi c'è un altro punto che vorrei dire sulla valutazione. Lei ha fatto un tentativo molto coraggioso sulla valutazione. Io gliene rendo merito. Purtroppo questa valutazione è stata svuotata e risignificata, perché ci sono delle fasce fisse. Cioè, dovevano essere premiati il 25%, il 50% stavano in mezzo e il 25% dovevano essere in un certo modo. No, questo è l'accordo che le è venuto fuori. Non era quello che lei voleva fare. Io questo gliene sto rendendo merito. Ma c'è un dialogo sociale che va avanti e che spesso svuota alcune riforme di significato. A questo si aggiunge che non ci sono soldi, come diceva lei. Io non volevo assolutamente dire che la riforma non serve a niente. Io le ho reso il merito di essere stato il primo a provare a fare questo in un campo molto complesso. Secondo me ci sono dei problemi. Le evoluzioni delle elezioni possono migliorare. Non vorrei però ridurre il programma a un battibecco. Magari il riferaggine potrebbe invitare il professor Brunetta. Nessun battibecco. Dico solo a un giovane ricercatore un po' più di umiltà e di affrontare i problemi pensando che l'interlocutore abbia studiato, abbia valutato, conosca la letteratura come è forse meglio di lui. Magari diciamo che Rapporto Carali agevolerà un incontro a Oxford tra Ferragina e il professor Brunetta. Con grande piacere.